A quel punto i ragazzi hanno capito, e se in gol non ce la faremo, in 10 anni che è il tempo che ha un settore giovanile, ce la si può fare, ma molto bene, non bene, molto bene, ce la si deve fare. E se non ce la fai è perché hai sprecato il tempo a fare fuorigioco, hai sprecato il tempo a come vincere la partita, hai sprecato il tempo a fare cose che non costruivano il giocatore e la squadra, ma che servivano semplicemente a vincere e a dire che hai vinto al posto suo, hai vinto la sfida, quella importante, quella del bar, quella che vai e dici io ho vinto, non hai vinto niente, non hai vinto niente. Hai creato l'illusione nei tuoi giocatori di aver risolto il problema e sono ancora la base della montagna, pensano di essere in cima perché hanno vinto la partita, perché hanno vinto il campionato, perché hanno vinto il torneo, sono ancora la base e devono ancora camminare. E là l'ossigeno è poco e non li hai preparati, quando arrivano là e non hanno la maschera e l'ossigeno devono tornare indietro.